Dottore, parliamo dell'uso, anzi anche dell'abuso, della cortisone, cosa possiamo dire di questa sostanza? Quando è opportuno somministrarla? Il cortisone, bisogna individuarlo bene nella sostanza, rientra tra gli immunosoppressori. L'immunosoppressore, lo dice la stessa parola, deprimono il sistema di difesa, che a volte può essere alterato e dunque andare ad aggredire una condizione di normalità con la produzione di anticorpi che ci autoattaccano. Il cortisone ha come indicazione, nell'età pediatrica, in primis la malattia asmatica. Nell'asma va usato e va usato a piena dosi il cortisone e la malattia principe. Altre malattie che possono interessare all'età pediatrica sono le malattie reumatiche. Le malattie reumatiche sono delle malattie in cui il nostro corpo fa anticorpi che ci aggrediscono e questa è un'altra modificazione per l'uso del cortisone. In età pediatrica, tranne qualche rara malattia, non esistono altre indicazioni per l'uso del cortisone. Dove viene abusato il cortisone? Il cortisone viene abusato nel trattamento della febbre, perché essendo immunosoppressore determina un blocco del sistema di difesa, la prima linea di difesa è la febbre, e dunque è come se noi spegnessimo la chiave della macchina. Spegniamo il sistema di difesa, non ci difendiamo più e passa la febbre. E questo fa sì che vengano meno le ansie dei genitori, ma non fanno sì che il bambino si difende. Quella è una malattia, gli spegniamo il sistema di difesa, il genitore è contento perché passa la febbre, ma la malattia può fare quello che vuole. Quando si tratta di un banale raffreddore non fa niente, ma se fosse un'altra malattia di altro genere potrebbe causare anche danno perché noi abbiamo spento il sistema di difesa. È molto comodo, è comodo perché uno dà il cortisone e la febbre passa, e dunque si può anche uscire e andare a passeggio se uno ha altre esigenze, ma non è rispetto della salute dei propri figli, fa passare la febbre immediatamente per altre stanze. Se uno non ha il tempo di dedicarsi ai figli, forse è meglio che prenda altre scelte prima di farle. Quindi la sua è una tirata d'orecchie nei confronti dei genitori, che molto spesso tendono a individuare i rimedi rispetto alla malattia in modo autonomo. Noi dobbiamo curare la malattia, non le ansie dei genitori o le esigenze dei genitori. Noi dobbiamo curare la malattia del bambino, e la malattia del bambino facendo passare la febbre non la curiamo. spegniamo il sistema di difesa, facciamo sì che non si difenda, la febbre passa. Abbiamo soddisfatto istanze familiari, ma non abbiamo soddisfatto le istanze di salute del bambino. Non rientra nella medicina questo comportamento. Quindi l'influenza, insomma, ma l'anno di stagione va curato in modo tradizionale. L'influenza si cura come si curava centenarie di anni fa, stando a letto, bera abbondante, frutta e verdura. Quest'anno dura un po' di più, dura 5-6 giorni, ma la cura è la stessa. Tenere il bambino a fresco, il paracetamolo funziona poco, ma la febbre alta non fa male, ci difende. E dunque, pure il paracetamolo, usarlo soltanto se il bambino è molto abbattuto. Ma se il bambino ha 40 di febbre e corre casa a casa, mangia tutte cose, non è infastidito, si può tenere con 40 di febbre tranquillamente. Se un bambino ha 38, è messo in un angolo, non ce la fa stare in piedi, si lamenta dei dolori, in quel caso usiamo il paracetamolo. Ma ogni cosa va usata con la giusta misura, perché il buon Dio ci ha fornito di un corpo che è in grado di difendersi. E dunque, non bisogna andare ad alterare questo ciclo naturale. Possiamo aiutarlo, ridurre un po' i fastidi, ma le malattie, l'influenza in particolare, fa il suo decorso, qualunque cosa noi diamo, dura sempre lo stesso periodo. Se gli diamo il cortisone, gli sospendiamo un giorno di febbre, dopo due giorni torna da capo, perché l'influenza fa il suo decorso in ogni caso.